Siamo a Faenza in provincia di Ravenna 10 agosto 2017 un fortissimo temporale accompagnato da un vento impetuoso ha creato diversi danni a frutteti in tutto il territorio qui siamo in un impianto nuovo di mele era coperto da reti antigrandine e vediamo l'effetto sull'impianto e sulle reti è stato tutto divelto Grazie a tutti